Polstrada in campo in vista dell'esodo di Pasqua per garantire maggiori controlli sulle strade, previste più pattuglie sul territorio della provincia nel weekend che verrà. In particolare si cercherà di prevenire incidenti provocati da alcol e droghe. Il comandante provinciale della Polizia Stradale Renato Alfano questa mattina ha fatto visita alla sottosezione di Grotta Minarda in occasione del precetto pasquale. Quest'anno anche la Polstrada è in festa per il suo settantesimo anniversario. Il potenziamento delle pattuglie, esplicitamente i servizi specifici mirati per il contrasto ai comportamenti di guida maggiormente pericolosi per la sicurezza stradale, la guida sotto l'influenza dell'alcol, sotto effetto di sostanze superfacenti, la velocità e repressione di comportamenti molto molto lesivi della sicurezza stradale, quale l'uso del telefonino alla guida e il mancato uso delle cinture di sicurezza. Più che positivo è il bilancio tracciato dal comandante della sottosezione di Grotta Minarda, Antonio De Bellis, arrivato in Irpinia un anno fa. Oggi è una giornata particolare, un momento di riflessione, un momento di aggregazione, un momento di incontro con il Cristo. Da parte le forze di Polizia perché svolgiamo un compito delicatissimo, quindi siamo in campo per aiutare, cercare di trasmettere e portare sicurezza nelle famiglie. Il bilancio di un anno che sono qua è un bilancio super positivo perché si è creata molta motivazione, si è creata una squadra vincente, vincente vicino ai cittadini in modo tale da poter eventualmente cercare di percepire tutte ciò che sono le esigenze di una società normale e contrastare invece quello che disturbano questa società normale, ovvero la criminalità, sia quella comune sia quella organizzata. E poi il nostro compito è di tranquillità e sereno.